Una gara equilibrata, quella di ieri, disputata tra la New Basket Agropoli e l'Irpinia nella fase a orologio per accedere ai Final Four del campionato di Serie C Gold, girone B Campania. La compagine agropolese aveva bisogno di due punti per continuare la corsa nei primi posti della classifica, mentre gli Irpini erano fuori dai giochi avendo matematicamente terminato il percorso in centro classifica. Primo quarto 21-21, secondo quarto a favore degli Irpini 44-41, terzo quarto a favore dei Delfini per 67-66 e al termine dell'ultimo quarto, dopo una sfida a dir poco rocambolesca, la New Basket Agropoli agguanta la vittoria per 94-90. Da sottolineare l'ottima prestazione dei Delfini, che nonostante un package al 50% delle sue potenzialità causa infortunio, sono riusciti a contrastare una guerrita Irpinia che in vano voleva dimostrare di essere più forte. Ottima la prestazione di Di Mauro per gli agropolesi, mentre per l'Irpinia Norcino si è distinto molto bene. Da sottolineare il comportamento antisportivo di coach Marzullo, che ha sempre protestato con gli arbitri e soprattutto a fine partita ha innescato nervosismi e insulti inutili, visto che la sua squadra non lottava per nulla. Coach Lepre, dal canto suo, archivia una nuova vittoria, portando il suo team al secondo posto con 20 punti, seguito dalla Mezzia a 18, mentre Salerno è prima a 22 punti, allorquando mancano due partite ancora da giocare per i Delfini e i Calabresi, una sola partita per Salerno e il turno di riposo.